Eccolo qua il brumo che si scalda su questa bici che abbiamo detto ragazzi investe dal 100% la bici quindi mi dispiace per il nostro amico ma posso assicurarti che una volta su due questo passaggio riesce l'altra volta è riuscito benissimo ed ecco il nostro 100% che testa la resistenza del nostro amico ricaricarsi e stacca un bel applauso ragazzi sempre più difficile sui omaccioni staccati di lati e prendere in possesso dell'aria tutta in equilibrio ragazzi senza fermarsi ma solo al bike ancora da uno stacolo all'altro ed eccolo qua appena il cino road bike pronto ragazzi a staccare la grandissima eeeh taberato eccolo qua 100% di morti incredibile la pedalata la precisione e qui su questo cilindro il sbito il nostro brumo ancora stacca e rientra fanno i comuni mortali 100% brumotti fantastico non mi stanno mai ripetendo una bici da strada una bici da corsa ci siamo però uno dei quali è l'altezza il nostro brumo cercherà di staccare tre uomini di peso di importanza notevole ed eccolo qua e c'è la pala prima eccolo qua di nuovo e là il suo anteriore mamma mia scantate ragazzi ce l'avete in interventi dovuta sì 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 sì